Ciao a tutti, vi presentiamo oggi la nuova lampada Pro T5 dell'Arcadia Beard Lamp. Questa lampada, a differenza del vecchio stile T8, produce il doppio delle luminosità, ha un 2,4% UVB e un 30% UVA, è dotata di un kit facile da montare e pronto all'utilizzo. Migliora il comportamento alimentare e riproduttivo dei vostri animali. La plafoniera elettronica di ultima generazione, senza starter e quindi senza sfarfallio anche agli occhi dei vostri animali. La lampada T5 produce il doppio delle luce per watt rispetto a una T8 del vecchio stile. È una lampada più fine con diametro di 16 mm lunga 115 cm. Il kit pronto all'utilizzo viene fornito un plafoniera elettronica, cavo di alimentazione, interruttore e una prolunga che potete attaccare fino a 8 unità con la stessa sorgente di alimentazione. Ottima e facilissima da installare per chi pratica la tecnica del fotoperiodo. Il kit comprende tutto il necessario per installarlo facilmente all'interno di stanze, vogliere e gabbie. Per qualsiasi altra informazione visitate il nostro sito oppure scriveteci nei commenti qui sotto. Ciao! Ciao!